Abbiamo detto prima che quest'anno la banda compie 170 anni di storia, un pezzo di storia l'abbiamo proprio qui con noi perché era il 1988 e il maestro Legrenzi arrivava all'apice del proprio successo del direttore con il concerto di sorgente sonora ma alla fine dopo questa fatica prese la banchetta la diede in mano a suo nipote dicendogli porta avanti tu la banda ed è 30 anni che la banda di Cusone è diretta dal maestro Angelo Benzoni Grazie Angelo Con il maestro Angelo Benzoni la banda ha inciso tra dischi, è andata in Olanda, è andata in Francia, è andata in Svizzera, è andata a Roma ha vinto un concorso e sei il direttore più longevo della banda di Cusone Dunque davvero grazie di tutto Angelo per questi 30 anni di banchetta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti